Ecco, adesso lo scheletro è completo. Certamente lo avete riconosciuto. È un modellino di Tyrannosaurus Rex, forse il più famoso e terrificante fra i dinosauri. Se sappiamo come era fatto e come si muoveva è perché era un vertebrato, cioè un animale dotato di uno scheletro interno. Lo scheletro permette di ricostruire gli animali del passato, le specie estinte che oggi non ci sono più. Infatti i tessuti molli del corpo dopo la morte si decompongono e scompaiono, ma le ossa qualche volta si fossilizzano e sopravvivono anche per milioni di anni. Così non sappiamo per esempio di che colore fosse la pelle del Tyrannosaurus Rex, qui il colore è stato inventato, ma grazie alle ossa conosciamo la struttura del suo corpo e il modo in cui poteva muoversi. In questo capitolo studieremo le caratteristiche dei vertebrati, dai più piccoli e antichi cordati fino ai più grossi animali esistenti oggi sul pianeta, che hanno dimensioni paragonabili ai più grandi dinosauri. Grazie.